Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Damiano Fedeli. In A11 in direzione Firenze, 9 km di coda per incidente fra Monte Catini, Terme e Pistoia. Sempre in A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso fino al bivio con la 1. In A1 in direzione Bologna, 6 km di coda per incidente fra Incisa Reggello e Firenze Sud. In quel tratto ci sono anche 3 km di coda per traffico congestionato fino a Firenze in Pruneta, svincolo che, ricordiamo, ha chiuso per lavori fino al 31 di agosto. Rallentamenti sempre in A1 per traffico intenso fra Aglio e Calenzano in direzione Firenze. In Fipilì per lavori 3 km di coda fra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze, rallentamenti in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze, lavori di manutenzione dei viadotti Docciola e Falciani fra l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta e San Casciano. possibili code. Ed è tutto, buon viaggio!